Il Festival in tempo diretto, questo è Pardo Live e come ogni giorno ci ritroviamo con il direttore artistico Olivier Peer per un breve assaggio del menù che ci aspetta oggi e oggi non possiamo partire da un grosso premio, da un grosso personaggio che arriva a Locarno. Il Pardo d'onore Swisscom che quest'anno è dato a Ippol Ferrara, un grande regista americano, un maestro del cinema moderno. Ferrara è un regista newyorkese nato nel Bronx che ha cominciato la sua carriera negli anni Ottanta con film noir, con film urbani, film polizieschi e ha fatto un classico del noir moderno che è King of New York con Christopher Walken. E subito dopo con il suo film cattivo tenente Bad Lieutenant con Harvey Keitel, la sua carriera ha preso una dimensione diversa e è diventato un cinema ovviamente molto religioso e anche filosofico e metafisico con temi molto forti come la redenzione o la fede. Dunque la sua carriera è diventata veramente affascinante con film come Snake Eyes, Madonna o Blackout sul mondo del cinema. Dunque penso che un regista veramente importante del cinema di oggi è un maestro, lui è sempre a fare nuovi film, è molto indipendente, è una posizione quasi marginale nel cinema americano però è per questo che è andato in Europa, in Italia, in Francia a fare film, a trovare produttori e lui è sempre al lavoro, ha appena finito un film che sta girando un nuovo film in Italia. Stasera ci sarà la premiazione in piazza e poi comunque verrà mostrato nella piccola ritrospettiva dedicata ai suoi film, forse merita di spendere due parole, la proiezione di Mary che è un film molto complesso e molto interessante, dell'ultimo Ferrara. Sì, è una delle sue opere le più ambiziosi, le più complesse, è un film che ha vinto il Leone d'Argento alla Regia, alla mostra di Venezia, è un film con Juliette Binoche, con Forrest Whitaker, Mathieu Modine, Marion Cotillard, è la storia di un regista che fa un film, un soggetto che Ferrara aveva già trattato con il suo film Snake Eyes, ma è soprattutto un film sulla fede, perché è la storia di un attrezzo francese che fa Marie Madeleine in un film e che non si può uscire del personaggio, del ruolo e che rimane a Gerusalemme. Dunque è un film abbastanza mistico e soprattutto un film su diversi personaggi che sono tutti alla ricerca di Dio, da New York a Gerusalemme, dal cinema alla religione, è un film molto complesso e molto bello, magari il più personale di Ferrara. Film personali, ma diciamo così, per entrare nell'altro menù del giorno, una battuta veloce, anche perché ci sono, come dire, i doppi sguardi di Locarno, da una parte abbiamo in piazza dei blockbuster molto interessanti e divertenti, che si apprezzano divertenti, dall'altro abbiamo i film d'autore come un Jean-Marie Strobe, una Claire Denis, che in Jean-Jean Digital Project fanno questi esperimenti col digitale. È vero che oggi, nella stessa giornata, possiamo vedere gli ultimi cortimetraggi di Jean-Marie Strobe, grande regista che adesso fa i film corti in digitale e che ha adattato grandi texti della letteratura europeana. Adesso ha fatto nuovi film che sono in prima mondiale da Pavese e da Kafka. E sulla sera, sulla piazza questa sera, c'è un film, una commedia romantica americana, Friends with Benefits, e ringraziamo la Disney che ha portato il film sulla piazza. È un film, ovviamente, molto divertente, con un cast molto sexy, perché il ragazzo e la ragazza sono Justin Tiberlake e Mila Kunis, la protagonista di Black Swan con Natalie Portman, dunque un cast super sexy per un film veramente divertente che piacerà al pubblico della piazza. Allora, il cinema, anzi i cinema del Festival di Locarno. Buona giornata, Olivier Pelle. Buona giornata.